Ciao amici oggi parliamo del palombo e dello smeriglio qui abbiamo un palombo fresco è un pesce squaloide come lo smeriglio ma è di grandezza media o piccola quello trovate senza pelle senza pine senza testa è molto buono e gustoso poi abbiamo lo smeriglio che sono queste fette qua ci hanno la differenza del palombo palombetto del nocciolo centrale rosso sono pesci più grossi parliamo di 30 40 kg può essere confuso con lo spada adesso vi do la ricetta dello smeriglio decongelato impanato prendete una fetta di smeriglio la fate passare nell'uovo poi nel pangrattato e poi in pente antiaderente con un po di olio lo fate soffriggere un attimino finché è cotto e il pane bello apprustolito il piatto è pronto ci mettete un po di sale e chi volesse anche un po di limone per oggi è tutto vi raccomando di mettere mi piace commentare e condividere con i nostri amici un pesce a tutti